Ci siete? Siete arrivati proprio in tempo? Non crederete ai vostri occhi? Molyland! Questo è il futuro! Doc, guarda! Stran'invenzione quella dei miei colleghi in questi studios del ventunesimo secolo. Sì, è bellissimo. Doc, senti, dobbiamo caricare la veloria e ne cominciamo a muoverci, d'accordo? Sì, il grande Doc! L'inventore della macchina del tempo! Doc, aterrando, ho fatto un buco del serbatoio della benzina, perciò dovremmo ripararlo e poi fare il pieno. Brando Giove! Matti, ragazzi, seguitemi! Bravo!